Ciao a tutti ragazzi, qui è BlueLight e benvenuti oggi in questo nuovo video, oggi sono qui in questo nuovo episodio di Minecraft Vanilla Allora ragazzi, come vedete sono nella mesa e oggi sono qui per farvi vedere il progetto di cui vi parlavo nello scorso episodio Prima di farvelo vedere, vi volevo far vedere un'altra cosa, cioè quanta clay ho rotto appunto per fare questo progetto Allora qui nella cesta abbiamo questi materiali e poi il nostro amico Mulo, come vedete ha la cesta addosso a lui piena E, cioè, ho scavato un sacco di tempo, no, fammi uscire, e infatti ho rotto il piccone con efficienze 4 che avevo L'ho riparato, prima di romperlo l'ho riparato, l'ho risprecato e adesso ho un altro piccone Che è quello con Siltouch, che però non ho usato appunto perché ha Siltouch Ora scendiamo qui dal nostro beacon, grazie, e così vi faccio vedere quello che ho fatto Allora andiamo in questo corridoio e arriviamo qua Allora questa è la nostra miniera, possiamo chiamarla miniera, sì, di clay Guardate qui c'è questa colonna molto epica, fatta di colori diversi di clay, davvero molto figa E poi tutto intorno, come vedete, un livello diverso di clay A parte questo doppio giallo, un po' stupido che c'è in questo bioma, però vabbè Purtroppo l'ho dovuto lasciare Però comunque, come vedete, una cosa molto molto epica Ora, cosa ci sarà qui? Ora io collegherò delle ferrovie Dove in una ferrovia ci sarò io, con il mio kart Mentre nell'altra ferrovia ci sarà la chest, anzi il kart con la chest Che porterà l'hardener clay, che scaverò La porterà sopra e poi, se riesco, farò anche uno smistamento chest In base al colore della clay Quindi una cosa abbastanza carina Non complicatissima, però, che si può fare Però comunque, con molto lavoro dietro Ora, io da qui, da questa parte, andrò a scavare un corridoio di tre Che mi porterà una stanza E questa stanza sarà, appunto, la stanza dove io scaverò la nostra clay Per poi fare i progetti nel mondo Anzi, più che nel mondo Vicino caso, comunque, nei dintorni Dato che la clay è sempre stato un materiale Che non ho mai avuto in abbondanza E adesso che ho la mesa Finalmente posso avere In quantità industriali proprio Ora, questa stanza Adesso sto scavando completamente random Infatti adesso abbiamo solo questi due colori Che sono il light grey e il giallo Però poi noi Scaveremo anche sotto, sopra, lateralmente In modo tale da prendere più colori possibili Ora, scavo giusto Un po' così Perché comunque ho il piccone così il touch E non lo voglio spiegare in questa maniera Devo fare un altro piccone Però, come vedete, ho 15 livelli E quindi non mi... Non... Sono andato in nessuna farm Per prendere i livelli E quindi mi devo attaccare per questo momento Quindi rompiamo un altro po' di blocchi Così poi Giusto per iniziare la nostra stanza Forse anche un po' più lontano Però vabbè, dai Va bene E quindi poi Devo collegare le ferrovie Adesso ce l'ho E poi vi devo far vedere anche Il nostro caro beacon Anzi no, basta che faccio E Come vedete ho aste 2 E quindi andavo Un po' più veloce Nello scavare la nostra clay Quindi Cosa facciamo? Allora Adesso vediamo un attimo Se io metto le ferrovie, no? Devo trovare un modo per arrivare su E le alternative sono 2 Se non sbaglio Allora possiamo Arrivare qui E fare tipo una Scaletta verso sopra Però sopra è molto alto Oppure andare da questa parte Che come vedete Aggira La parte L'altra parte E sbuca qua dietro Sbuca qua dietro Poi io faccio un po' Di parkour In questa maniera In questa maniera E poi arrivo qua Arrivo qua e posso collegare il tutto Fino laggiù Quindi forse questa È la cosa Che farò Di girare dietro Per poi Arrivare qui Dove Ci sarà diciamo Lo smistamento chest Perfetto Ora Il beacon Per adesso Ce lo lasciamo Però Credo che Nel prossimo episodio Non ci sarà più Perché comunque Non mi serve Perché alla fine Per adesso La clay ce l'ho Quindi non mi serve Ancora Non mi serve più il beacon E quindi per adesso Iniziamo da qua A fare la ferrovia Che Per adesso Mettiamo solo I binari normali Poi più là Andiamo a mettere anche I binari potenziati In modo tale Da rendere il tutto Più veloce Ora Questa arriva qui Alla colonna Quindi facciamo una cosa Di questo tipo Giriamo la colonna E andiamo di qua In questo modo Fino ad arrivare Qui Andiamo qua Voilà Così Mentre dall'altra parte Facciamo così E facciamo la stessa cosa Giriamo Andiamo prima Di due Giriamo No Più avanti Via qua Da me questa Andiamo più avanti Oh Facciamo così va Ok Possiamo andare più avanti E poi Colleghiamo il tutto Da quest'altra parte Quindi così Così Da questa parte Magari facciamo andare Il cart Con la cesto E invece Da questa parte Ci passo io Oppure il contrario Poi vediamo Nei prossimi episodi Perché comunque Devo fare delle prove Perché poi Devo collegare il tutto Fino a sopra Quindi sì Credo che Opterò Per la strada Diciamo Secondaria Che aggira il tutto Quindi mi servono Molte più ferrovie Devo collegare Molte più parti E soprattutto Devo mettere anche Qualche powerhead rail In modo tale Da rendere il tutto Molto più veloce Poi Allora che abbiamo fatto Queste due stradine Una cosa Che mi chiedevo Che mi sono chiesto Anche nello scorso episodio Se vi ricordate Che cosa c'è qua sotto C'è la stone Oppure A che livello C'è la stone Quanti livelli Di clay ci sono Una domanda Che mi faccio Non solo Dallo scorso episodio Perché comunque È da tanto Che io Cerco la mesa E quindi Ok Ok Mistero risolto C'è la stone E quindi poi Ci stanno I materiali normali Perfetto Grazie Gentilissimo Minecraft Mi è stato Proprio Diretto Nel dirmelo Subito Quindi possiamo Anche rimettere I blocchi Perfetto Ok Misteri di Minecraft Risolti Non è questo il colore Sono anche dal tonico Che colore è questo È la dener clay Normale Ah sì Ok Bene Ok risaliamo Voilà Perfetto Ok Sotto c'è la stone Quindi Quindi Possiamo anche trovare I diamanti Ton 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 Cioè trovare i diamanti Nella mesa Nella mesa È molto epico Mi piace questa cosa Ok Ok Prossimo obiettivo Trovare dei diamanti Qua sotto Mangiamo il pollo Ok Poi Ora Abbiamo fatto Le ferrovie Abbiamo visto Se c'è la stone Sotto ai nostri piedi Ehm Possiamo anche rompere Il nostro beacon O almeno Rompere Ehm Adesso abbiamo Aste 2 No? Beh almeno rompere I blocchi sotto In modo tale Da far rimanere Aste 1 Perché comunque Aste 1 va bene Oppure escluderlo Ehm Proprio Del tutto Intanto che faccio questo Ehm Vi volevo ringraziare Perché Abbiamo raggiunto Quota 350 Iscritti Per precisione Adesso siamo tipo A 352 O cose simili Quindi vi ringrazio Perché sono Piccoli obiettivi Che però A me fanno molto piacere Poi Strano Ma vero Ehm C'è un mio video Che è arrivato A 4000 visual Che Per chi segue Da tanto Il canale Era già successo Quando aveva raggiunto Le 2000 visual Io l'avevo detto In un video di minecraft E' il video Di Pokémon Smeraldo Dell'ottava palestra Perfetto Quindi C'è gente Che continua a vedersi Il video Dell'ottava palestra Di Pokémon Smeraldo E infatti Ha raggiunto 4000 visual Va bene Ehm Cioè io non lo so Perché Cioè la gente Non sa fare la quarta palestra Non c'è un cacchio da fare Boh Va bene Però comunque Sempre tra i video Più popolari Ci sta anche Il Tempio Sottomarino Che è invece Il video con più like E quello Di quello Sono davvero contento Perché comunque Ci ho messo tanto A registrarlo E comunque è stato Un video molto epico Perché Era appena uscita La 1.8 E quindi Trovare subito Il Tempio E fare subito Il video Infatti Mi ha portato Molte visualizzazioni Su quel video Quindi sono contento Perché comunque E' un video Su cui ci ho perso Molto tempo Mentre il video Di Pokémon Smeraldo No Perché ero pure Raffreddato in quel video Quindi Non so perché La gente continua a guardarlo Però vabbè Sono tipo I problemi della vita Che devi fare Nel frattempo Mentre parlavo Ho rotto tutto Se magari mi dai Anche la testa Grazie Così Il nostro Pokémon Lo possiamo Riutilizzare In un'altra In un'altra Per un altro progetto Ora Vorrei aggiungere Anche Altre cose Oltre I kart Che si muovono Diciamo Quindi Poi vediamo Nei prossimi episodi Perché comunque Ho qualche idea Però Devo svilupparla Diciamo Ditemi Voi Cosa Posso mettere All'interno Di questa miniera Perché comunque Come vedete È una cosa Molto epica Davvero Quindi scrivetemelo Qua sotto Nei commenti Ora Possiamo Tornare Anche sopra Perché Comunque Devo Poggiare Che si blocchi Comunque Devo tornare a casa Perché Devo prendere Anche le altre ferrovie Però Questo lavoro Delle ferrovie E delle powerhead rail Anche Lo voglio fare off camera Perché comunque Qua ci sono molti Scalini Molte parti Molto Diciamo Che rompono un po' Le palle Quindi Me le lascio Per Farle off camera Intanto Sta sorgendo il giorno E noi Possiamo anche Uccidere i nostri Mob È morto Subito Sul colpo Proprio Ciao creeper Salve Ok E comunque Un'altra cosa Di cui Vi volevo parlare Che Queste settimane Di mercoledì Stavo uscendo La top 5 Dei gol migliori Di FIFA Che ho fatto Nelle varie divisioni È una cosa Molto carina È un'idea Molto carina Quindi Se non Avete visto I due episodi Che sono usciti Andate a vedere Perché comunque Sono cose molto carine E poi dopo Queste compilation Dei gol Volevo far uscire Una nuova serie Una nuova serie Che Non sarà Su FIFA Quindi Aspettatevi Delle sorprese Quindi Quindi Adesso Poggiamo Questi blocchi Anzi Più Più che poggiarli In teoria Li devo riprendere Perché li devo portare a caso Quindi prendiamo Tipo tutto il giallo Tutto il giallo E tutto l'aranzia Poi c'ho spazio Ma questi Possiamo pure lasciare E poi ci prendiamo Il light grey Ok Quindi Arrivo a casa E ci vediamo Tra poco Ok ragazzi Mi ero scordato Una cosa Infatti Sono andato a casa Ho appoggiato Parte dei materiali E poi Sono andato a prendere Dell'ossidiana Sono andato a prendere Dell'ossidiana Perché volevo fare una prova Volevo vedere se Mettendo un portale Qui Si collega Al portale Che ho nel nether In modo tale Che se io vado nel nether Quello Si collega Appunto A quello che metto qua Senza che Ho un portale Laggiù nella savana Quindi Per risparmiare un po' Di metri Diciamo Quindi Facciamo questa prova Cioè È probabile Che questo Portale Si colleghi A quello che ho Che ho nel nether Quindi Vediamo Proviamo Proviamo Ho sbagliato Ho messo Uno in più qui Dammelo 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 Grazie Uno Due E tre Perfetto Siamo pronti Siamo pronti Vediamo un po' Se Sbucchiamo lì Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Oddio Si È lui Quindi Se io mi Teletrasporto Ritorno Nell'hard Nel clay No Nella savana Però se io adesso Rompo questo Quando quello Quando io vado In quello Della clay Vado nel nether Quando vado nel nether Vado in quello Della clay Perché questo Non ci sarà più Abbiamo risolto Abbiamo risolto Svolta 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 Ok Eccomi qui Di nuovo Siamo pronti Vediamo Se tutto funziona Incredibile Ok Ok Siamo nel nether Perfetto Quindi se rientriamo Se rientriamo Magia No Crea un portale Nel In una grotta Perché Bastardi Minecraft del cacchio Dov'è poi questa grotta Si sta a 300 blocchi Di distanza Della clay Mortacci vostri Guardie Ok Quindi Adesso In teoria Cioè Ci siamo persi Però Abbastanza Ora Quindi Vabbè Io riprovo a rompere questo E faccio un'ultima prova Sono qui Di nuovo Per un'ultima Prova Mi puoi mettere il portale Dentro una grotta Ma mannaggia Butta Riproviamo Dai 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 Collegami Collegami Lì Collegami Lì Niente Forse Nella stessa grotta Di prima Si Però In una posizione Diversa Però Nella stessa grotta Di prima Bastardi Vedi Minecraft Perché Perché Minecraft E quindi Niente Quindi Rompiamo Questo portale E Niente Non si collega C'è un cacchio da fa Peccato Peccato Ok ragazzi Quindi Le nostre prove magiche Non sono riuscite Ci abbiamo provato Però Peccato Perché poteva Essere davvero Una cosa Molto utile Quindi Per questo video Di Minecraft Vanilla è tutto Spero vi sia piaciuto Vi ricordo Di lasciare un mi piace Di commentare E di condividere Questo video Pagina Facebook In descrizione Instant Gaming In descrizione Sito web In descrizione Quindi Ciao a tutti Da Blue Light